La didattica del corso di laurea in economia aziendale e green economy ha tre punti di forza. Il primo punto di forza è l'organizzazione. Le lezioni sono organizzate in tre giorni a settimana in modo compatto a partire da ottobre fino a dicembre e da marzo fino a maggio per consentire ai nostri studenti di ottimizzare al massimo i loro tempi e poter quindi già a gennaio sostenere i primi esami. Il secondo punto di forza è quello di una comunità, una comunità che supporta lo studente con tutto il suo staff e lo aiuta nel poter reggere un ritmo di studio e poter conseguire in tempi brevi la laurea. Il terzo punto di forza è quello delle opportunità, opportunità che offre quest'Ateneo, offre non soltanto con docenti di alto profilo ma con tutte le iniziative che sono a favore dello studente e questo per creare una figura di uno studente che si formi, una figura professionale sicuramente a tutto tondo.